90 piazze in 13 regioni italiane, visite, consulenze o semplici informazioni da fornire a chi vive in condizioni di fragilità sociale e che ha difficoltà a fare prevenzione. È l'obiettivo di Missione Salute, l'iniziativa voluta dalle misericordie in tutta Italia per aiutare chi ha rischio e marginazione o esclusione sociale. Grazie agli ambulatori mobili e all'impegno di 200 volontari tra soccorritori, medici e infermieri è possibile accogliere indigenti e offrire loro visite e screening, come è accaduto a Canosa di Puglia nel nord barese, dove sono stati eseguiti controlli cardiologici, dermatologici e screening oltre a cure di base infermieristiche. Così le misericordie intendono rimanere vicini alle persone che vivono ai margini della società e contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale, promuovendo un servizio gratuito di prevenzione e protezione sanitaria. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Associazione Medici di Famiglia per le Emergenze, l'Unitalsi e il Centro Missionario Medicinali Onlus.